Io sono venuta qui intanto per ringraziarvi, perché penso che tutta la società vi debba ringraziare e quindi non c'è posizione migliore che essere in una posizione di governo per venirvelo a dire direttamente a coloro che ci hanno veramente aiutato. È un segno di gratitudine da cittadino per tutto il lavoro che hanno svolto coloro che lavorano in terapia intensiva e gli stesisti, insomma, perché sono stati davvero messi a dura prova. Il vostro progresso arriva in un momento particolarmente importante per il nostro servizio sanitario nazionale. Noi siamo nel pieno di tutte queste frontiere. Cioè abbiamo garantito l'urgenza e l'emergenza. Sollecitare delle domande, anche tramite domande aperte. Il livello di attenzione sale. L'allantamento io lo devo fare alzare, per avere un buon controllo di vita. Grazie e i ringraziamenti partono ovviamente da Tavio e da questo direttivo che con tanta fatica ha portato avanti, ancora una volta, il buon nome della nostra società scientifica e della nostra disciplina. Sono veramente felice di com'è. Questo congresso ha segnato un momento di ripartenza che spero dia forza a tutti i colleghi e capiranno che ce la possiamo fare meglio di prima.